Ciao e un saluto agli amici di Marsica Live. Noi siamo Elena Beatrice e Daniele Lynch, siamo un duo di registi e autori e siamo qui a presentare la nostra serie Post Scriptum, uno sguardo ottimista dalla fine del mondo. Una docu-serie in quattro episodi di circa 15 minuti l'uno che presenteremo per la prima volta tutte insieme, quindi quattro episodi uno dopo l'altro. Siamo contenti, è un momento anche emozionante perché è la prima volta che possiamo avere uno scambio con il pubblico e un feedback diretto con chi la guarderà questa sera. I festival per noi sono un luogo in generale molto importante per lo scambio sia con altre professionisti del settore sia con il pubblico. Sicuramente è importante essere qui ad Avezzano, ad Avezzano nello specifico è la prima volta ma in Abruzzo no perché eravamo stati qualche mese fa a forme a un altro festival di cinema e l'Abruzzo ci piace e siamo contenti di poter partecipare al cinema Ambiente Avezzano perché sono sicuramente tematiche che ci stanno a cuore, che ricorrono nei nostri progetti, nei nostri lavori e qui anche l'ambiente è decisamente interessante. Questa sera quindi inizieremo a fare una chiacchierata con il pubblico in cui presenteremo un po' la serie Post Scriptum, ma non solo, parleremo comunque, per non svelare ovviamente visto che poi la proietteremo stasera, parleremo soprattutto anche delle tematiche in maniera anche trasversale, quindi allargandoci anche un po', parlando di quelle che sono le tematiche che forse anche in qualche modo creano un fil rouge tra i nostri lavori fatti fino ad ora. Quindi questa è la parte che ci emoziona di più, insomma parlare con le persone, avere uno scambio e speriamo che si crei anche un salotto, un salotto nel senso non solo chiacchiera da parte nostra ma magari qualche domanda e qualche dialogo ecco insomma con chi sarà qua stasera. Approfitto per invitare tutti quanti a seguire questo festival che è ancora in corso per alcuni giorni.